Amiche dell'astrologia e dunque nemiche della razionalità, salve e benvenute al Deroscopo di agosto. Visto il periodo, questo Deroscopo è dedicato alle vacanze, per cui cominciamo. Dunque, ariete. Ariete, la compresenza di Marte e di Mercurio nella costellazione del Tarsio Piteco farà sì che il vostro periodo di ferie si apra con emozioni frizzanti ed uniche, del tenore di un matrimonio da ubriache o di un'incriminazione per abuso edilizio. La prossima volta che state per fare una scelta sbagliata, fate anzi quella giusta. Toro, il viaggio che avevate da tempo progettato salterà purtroppo all'ultimo momento, complice il fatto che l'Austria non sia sul mare, a meno che io non mi sia perso qualcosa. Potrete comunque sfogare la vostra voglia di tuffi con un weekend low cost presso una pozzanghera. Gemelli. Gemelli, scoprirete che un leone è un ottimo compagno di viaggio, specialmente per tenere a bada gli operatori turistici molesti sbranandoli. L'influenza di Venere farà sì che veniate colte da una particolare carica di libertina freschezza, finendo così per darla via come se non fosse vostra. Ricordatevi di me. Cancro. Il vostro partner vi pianterà nel bel mezzo della vacanza, seduto da una vergine che sarà pure vergine, ma certe mosse sono roba da porno star. L'unica soluzione possibile sta nel rinchiudervi in voi stesse e tenere tutto dentro, affidandovi magari ad un esperto di voodoo che per poche migliaia di euro vi levi in malocchio. E aggiungo che sono a disposizione. Leone. Leone Urano, Urano, vi sorride dalla costellazione del caso umano, benedicendo la vostra liaison con un capricorno particolarmente incline all'evasione fiscale. La vostra fuga d'amore estiva vi porterà ad esplorare luoghi esotici e misteriosi, in particolar modo il carcere. Procuratevi un buon avvocato. Vergine. Giove, particolarmente inviperito per la continua debacle degli dèi dell'Olimpo di fronte del cristianesimo, funesterà la vostra vacanza con maltempo e disastri naturali. Durante queste calamità vi imbatterete però in uno scorpione particolarmente affascinante e che saprà farvi ridere in particolare grazie al sapiente uso del sollettico. Bilancia. Bilancia passerete una vacanza ordinaria, in una località lineare, fra amici equilibrati e situazioni normali. Certe volte desidererete un segno un po' più movimentato. Scorpione. Non vi andavano bene le vacanze al mare, come tutti i mortali. No, voi dovrete per forza andare nella meta esotica dove se non ci va quasi nessuno ci sarà pure una ragione. Ed ecco, caro Scorpione, che adesso vi trovate nel bel mezzo di una sanguinosa guerra civile africana. Imparate una buona volta ad essere più conformiste. Sagittario. La congiuntura straordinaria dovuta al fatto che Plutone abbia tagliato la strada alla Luna proprio all'ingresso della costellazione del Cactus, rischiando fra l'altro un incidente, farà sì che le vostre vacanze on the road siano costellate di eventi di grande impatto e di interesse. Imperdibile, in particolare, l'epidemia di peste bubonica. Capricorno. Il vostro progetto di turismo sessuale nel sud-est asiatico andrà a gonfie vele, ma forse sarebbe ora di smetterla con l'infantilismo e trasformare quella che è una passione in un vero e proprio lavoro, mettendo su una tratta di schiavi e di schiave o un franchising di prostituzione. In amore non siate mai voi stessi. Inutile darsi la zappa sui piedi. Acquario. Le vacanze casalinghe che avevate programmato con tanta cura salteranno improvvisamente poiché verrete sfrattate. Potrà essere l'occasione per adarsi ad una vita raminga e genovaga fatta di espedienti e priva di punti fissi, in una parola al barbonaggio. Potrete in compenso mettere a frutto quanto appreso in quel vecchio corso universitario di tecniche di elemosina. Infine pesci. Il vostro disinteresse per quello che accade nel mondo mostrerà tutte le sue controindicazioni quando vi renderete conto che forse non era il momento migliore per visitare la Siria. Tuttavia la vostra attitudine sempre positiva vi consentirà di scoprire che correre per schivare le esplosioni brucia molte più calorie che un mese di palestra. Per questo mese è tutto. Vi do appuntamento all'Eroscopo di Settembre. State Astrologi!